Da un'ex ghiacciaia a uno spazio polifunzionale con negozi, abitazioni e ambulatori, rinasce un angolo di Piacenza a lungo dimenticato. È stato infatti inaugurato un nuovo complesso commerciale e residenziale nel piazzale tra via Colombo e via Manzoni. In passato lì c'era una fabbrica del ghiaccio, diventata poi una struttura abbandonata e degradata. Grazie all'intervento a carico della società privata Bell, la zona è stata riqualificata. Su una superficie di circa 3.000 metri quadrati, la ditta ha realizzato una palazzina moderna attraverso l'accostamento di vari materiali, cercando di trasformare un'area trascurata in un immobile accattivante. L'ambiente interno è arricchito da un giardino scenografico con aiuole e passerelle in legno. La sistemazione dell'ex ghiacciaia contribuisce ad aumentare la percezione di sicurezza nel quartiere, oltre che a garantire più servizi agli abitanti. A capo dell'operazione c'è appunto il gruppo Bell, attivo da più di 30 anni nel settore immobiliare.